C'è da un'idea molto semplice, quella di motivare i ragazzi alla lettura con un approccio diverso, un approccio ludico, un approccio che fosse appunto coinvolgente. E quindi, come dire, chiacchierando così in maniera molto semplice e informale, ci è venuta in mente questa idea di questo percorso di lettura che si snota durante tutto l'anno scolastico, tra le classi degli studi che aderiscono al progetto e che si conclude appunto con questa manifestazione nella quale i ragazzi giocano sul libro che hanno scelto tra una serie di testi che sono stati indicati da noi docenti. Il progetto è un progetto che abbiamo appunto elaborato in continuità con il liceo scientifico, con appunto la nostra scuola partner, la Mazzini, che piace anche alle altre scuole, per cui quest'anno appunto anche D'Annunzio, Orsogna e addirittura anche l'Anfas hanno voluto partecipare all'attività. Moni, vuoi di qualcosa? Sì, le collaborazioni sono fondamentali perché gli istituti mettono in campo le loro risorse, che sono i docenti, risorse trasversali noi diciamo in termini tecnici, con i tanti insegnanti di materie diverse, quindi di lettere che collabora e organizza insieme alle scienze motorie. E poi, ecco, i partner sono importanti come Lanciano Lab, Liberadio.it, oggi abbiamo la prima postazione giovani del nostro progetto Una Radio per la Scuola, che sta in diretta social. E poi abbiamo l'ANIPED con il dottor Bellisario, che ci ha assistiti per tutta la fase progettuale, anche della valutazione, e altri dirigenti scolastici esterni. Questo è fondamentale perché è una sinergia sul territorio. Quindi le istituzioni scolastiche che escono sul territorio è il territorio che entra nelle istituzioni scolastiche. Questa è la cosa fondamentale. Professoressa Di Leandro, è anche una novità vedere degli insegnanti di lettere in tuta. Oggi abbiamo detto la sinergia tra le varie materie. Cosa state facendo oggi nello specifico? Oggi abbiamo organizzato dei giochi sportivi, dal tiro alla fune alla corsa, alla chiappa a bandiera, oltre a dei giochi di riflessione e di role playing. E in più ci sono due giurie, una giuria tecnica che valuta la performance sportiva, c'è una giuria di qualità che valuta, ecco qui l'indirizzo pedagogico, valuta altro, cioè la riflessione. Ad esempio il primo punteggio è stato assegnato per un video realizzato dalle squadre di rielaborazione dei contenuti del libro. Quindi una rielaborazione personale e anche autonoma e originale fatta dai ragazzi stessi. Qual è il libro adottato quest'anno? Animescalze di Fabio Geda, noi abbiamo avuto anche la fortuna di conoscerlo Geda, perché a febbraio Geda è venuto in collaborazione con la casa editrice in Audi, è venuto a Lanciano presso il teatro comunale Federe Fenaroli ed ha incontrato proprio le squadre di Librido. E oggi ci ha mandato anche un bellissimo saluto a Audi. Con il comune che ringraziamo per il partenariato, in particolare ringraziamo l'assessore Marus Camiscia dell'appoggio, della fiducia anche che ci ha dato sin dagli esordi di questo progetto. E come diceva appunto la collega, la sinergia è importante e quindi anche grazie al patrocinio del comune che siamo oggi qui a giocare.